Un gesto che vale più di mille parole, quello che i carabinieri in congedo della sezione di Fano e di Sant'Ippolito, insieme ai militari, tuttora in servizio, hanno compiuto lunedì scorso, giorno dell'Epifania, con una visita ai piccoli ricoverati del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Fano. I militari, insieme ai soci dell'associazione, hanno consegnato calze ricche di caramelle ed anche giocattoli ai piccoli pazienti, che hanno accettato il dono con un bel sorriso stampato sul viso. Una bella iniziativa di donare una calza ai bimbi che purtroppo sono ricoverati qui nel reparto di pediatria. Questo per noi è un momento molto importante e significativo perché accresce quella che è la prossimità al cittadino e poi che cittadini? Insomma, i cittadini più piccolini che così cominciano ad avere un approccio giusto, quello più opportuno con l'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri che per antonomasia è vicina alla gente e anche questo è un modo per noi di dimostrare questa vicinanza, questo affetto soprattutto ai bambini che poi non godono di ottima salute, ai quali noi facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione con la speranza di poterli avere presto nelle nostre caserme. Un momento ricco di emozioni e carico di significati, quello che gli uomini in divisa hanno compiuto. Il tutto si è svolto alla presenza dei genitori dei bambini e del personale medico ed infermieristico del reparto. Quest'anno proprio col cuore abbiamo pensato a loro perché lasciamo perdere gli adulti e altre cose, diciamo i più piccoli, quelli che soffrono più dei grandi e non possono controbattere oppure reclamare.